Sono 1871 i migranti ospiti all'hot spot di Lampeduso. A loro si sono aggiunti 22 tunisini che si trovavano su un'imbarcazione di 5 metri che sono stati intercettati a 3 miglia dal porto da una motovedetta della Guardia di Finanza. Con l'arrivo dei 22, tra cui 4 donne e 3 minori, salgono a 7. Gli sbarchi registrati sia dall'alba di oggi. La struttura di Via Labriola può accogliere al massimo 350 persone. Con motovedette e traghetti si proverà, secondo le disposizioni della prefettura di Agrigento, ad alleggerire la struttura d'accoglienza. Grazie a tutti.